Buon pomeriggio ai nostri radio teleascoltatori, ancora in studio dalle frequenze di Radio Stuni, Giuseppe Semerano, per augurarvi un buon pomeriggio. Che dire, questa è l'ultima puntata di Coscienze Politiche che facciamo in diretta dagli studi di Radio Stuni, in quanto, come sapete, entriamo nella Parcondicio. Quindi Radio Stuni dedicherà soltanto degli spazi autogestiti da parte dei candidati che ne faranno richiesta. Naturalmente avremo poi la chiusa di questa trasmissione, ve lo preannunzio anche se sui social già sta girando la notizia. Martedì prossimo avremo una puntata super di Coscienze Politiche, questa volta non nello studio di Radio Stuni, bensì alla Biblioteca Comunale, dove in diretta ci sarà un confronto guidato da me e da Ferdinando Sallustio, dove incontreremo appunto i quattro candidati sindaci. Fatta questa dovuta presentazione della trasmissione, invito il nostro ospite che quest'oggi ospitiamo, ovvero Domenico Pecere, è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Non so se è una persona conosciuta da Stuni, io lo conosco da poco tempo, quindi occasione quanto mai propizia per conoscere dalla sua voce la sua biografia. Ciao Domenico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i radioscoltatori, grazie per l'invito e come ben detto sarà una buona occasione per farmi conoscere, per chi ovviamente non mi conoscesse. Purtroppo il fatto di essere andato via da Stuni da parecchi anni non è di peso sicuramente da me ma da una situazione lavorativa e sicuramente anche della gestione delle politiche economiche nazionali che sicuramente non hanno favorito i giovani. Come ogni giovane ambizioso che vuole avere un percorso di studi è necessario andare via da Stuni e quindi sono andato a studiare a Bari, anzi prima un anno a Modena e poi a Bari, però anche in quegli anni io ho sempre mantenuto un contatto diretto con Stuni, siamo a pochi passi. Cinque anni fa invece ho fatto una scelta ancora più importante e ho deciso addirittura di andare via dall'Italia. Ho svolto un'attività imprenditoriale a Bari che ho cessato nel 2013 e quindi nel 2014 sempre per un discorso lavorativo di ambizioni soprattutto e sperimentare nuovi sistemi di lavoro ho deciso di approdare all'estero, quindi esattamente a Londra e anche per perfezionare quindi la lingua inglese. Però ci tengo a precisare che il mio percorso di infanzia è tutto concentrato ad Stuni, quindi io ho militato anche nella squadra di pallacanestro della famosa, della storica Assi Basket Stuni, ho frequentato la parrocchia di San Luigi, quindi il mio percorso giovanile è concentrato esclusivamente ad Stuni e sono in contatto ancora con tantissimi amici che ahimè purtroppo anche loro non sono più Stuni, quindi è una, diciamo è una, è stata una scelta quasi diffusa. Obbligata, obbligata. Se dovessi fare una statistica dei miei compagni di liceo di infanzia, solo uno su dieci risiede ancora qui ad Ostuni. Per fare una battuta mi è difficile anche chiedergli il voto, quindi questo è per fare un quadro più o meno della situazione della mia classe, parliamo della classe 80 ma penso che sia a cavallo tra gli anni 75 e nati dal 75. Quindi quanti anni hai a questo punto Domenico? Esattamente 38, ne fanno 39 a settembre e quindi la mia classe è stata abbastanza martoriata da una politica insomma inefficiente e non a caso appunto quindi Ostuni e il Sud si è svuotato dei giovani e la mia candidatura subito per entrare nel vivo è anche un segnale, un segno forte di un cambiamento di tendenza, quindi diciamo che ho voluto scendere in campo ma scendere fisicamente a tornare a vivere ad Ostuni ed esattamente a Villanova, ho voluto fortemente la residenza a Villanova nella mia casa vicino al porto perché non so se sai, ho speso tante energie e tempo per portare il castello di Villanova ad essere uno dei luoghi del cuore del FAI tra i più votati dell'ultimo censimento e è un riconoscimento che mi è stata anche riconosciuta insomma non solo dal FAI ma anche dalla cittadinanza con 3600 firme raccolte e siamo in corso di presentare il progetto per richiedere anche dei finanziamenti per riqualificare l'area attestante del castello. Quindi il mio impegno per Ostuni non nasce oggi, non nasce ieri ma è un percorso insomma che anche da Londra ho dimostrato di mantenere sempre un contatto diretto sponsorizzando quando potevo Ostuni e le bellezze di Ostuni appunto in Inghilterra. Ti fermo perché abbiamo avuto ospite nei nostri studi l'onorevole Palmisano che è il vostro rappresentante e il nostro a questo punto perché è di Ostuni anche lei, il nostro rappresentante al Parlamento e tra le tante domande che le ho poste che quindi adesso giro anche a te è che si vede sempre il Movimento 5 Stelle come un qualcosa di chiuso, di ovattato, cioè dove è difficile tra virgolette capire quello che succede dentro perché ti dico questo? Perché a questo punto la domanda è d'obbligo. Com'è nata la tua candidatura nell'ambito del Movimento 5 Stelle di Ostuni? Benissimo, è un'osservazione diffusa quella che hai fatto, addirittura se ne dice anche di peggio, si parla anche di setta. Mi sono limitato. Perfetto, io voglio sfasare tutti questi miti insomma. Il Movimento 5 Stelle, proprio perché è un movimento e non è un partito politico, è differente dagli altri partiti politici e quindi ha un regolamento delle regole diverse e quindi forse è strano per gli altri adeguarsi a queste regole. Per noi che ci siamo dentro è normale. Siamo un movimento dove la democrazia è messa al primo posto, una democrazia partecipata. Ci sono delle regole da rispettare. Il fatto di avere dei candidati scelti tra i cittadini comuni è anche un motivo non solo di orgoglio e di democrazia, ma anche una caratteristica del Movimento 5 Stelle. Non a caso i candidati come ad esempio il sottoscritto sono scelti appunto senza una particolare segnalazione dall'alto o un accordo politico. Quindi è frutto semplicemente di un coinvolgimento, di una collaborazione, di una partecipazione al Movimento. E questa piattaforma Rousseau non c'entra niente per la lista di Ostuni? La piattaforma Rousseau è appunto la piattaforma attraverso il quale si svolge questa partecipazione, questa democrazia partecipata. E devo spendere una freccia appunto a favore della piattaforma Rousseau che non solo permette la democrazia partecipata, ma anche la formazione. E penso che sia l'unico movimento politico che attraverso questa piattaforma gli iscritti, e ripeto, iscritti gratuitamente senza alcun obbligo di tesseramento, gli iscritti possono formarsi su quelle che sono le dinamiche amministrative, sociali, possono proporre leggi e le possiamo anche votare. È una forma di democrazia moderna che in Europa, avendo viaggiato tantissimo in Europa, ho constatato e spero che sia replicata anche da altri partiti politici. Ed entriamo ancora più nello specifico. Ogni candidato o sindaco ha il suo programma. Abbiamo ascoltato il programma dell'Ovacoro Tanzarella, di D'Angelo Pomes, di Guglielmo Cavallo. Giustamente è arrivato il tempo anche di ascoltare il tuo programma. Quali sono i punti qualificanti rispetto agli altri? Benissimo. Ci tengo a precisare che, con orgoglio, l'altro giorno in conferenza stampa ho presentato non solo la mia candidatura, non solo i nomi e la lista dei 24 consiglieri, ma appunto il nostro programma. Non è una cosa da poco presentare tutte queste cose insieme. Significa che alle spalle c'è una squadra, più che alle spalle intorno a me, c'è una squadra che ha lavorato per mesi, anche se molti pensano di nascosto, ma vi garantisco che non siamo stati nascosti, siamo andati in giro tra la gente, abbiamo fatto un questionario dove i cittadini hanno risposto ad alcune domande sulle problematiche che affliggono la città di Ustuni. E sulla base di queste risposte noi abbiamo iniziato a scrivere il nostro programma. Un programma che abbiamo racchiuso in un volantino di sei pagine dove sono elencati i primi dieci punti chiave. Ovviamente per motivi di spazio il nostro programma è di 26 pagine. No, abbiamo mezz'ora di tempo, domenica. Invito comunque a sfogliarlo online sul nostro sito ustuni5stelle.it per chi volesse dettagliatamente leggere il nostro programma. Nel volantino che stiamo distribuendo sia cartaceo che sia online per anche evitare l'imbrattamento di carta che in questo mese padroneggerà per Ustuni. In questo volantino sono racchiusi i nostri dieci punti chiave, tutte priorità, non c'è un ordine gerarchico. Ovviamente anche qui non posso elencarvi tutti e dieci. Ci tengo a elencarvi alcuni punti, e soprattutto quelli che vorremmo portare subito in atto nei primi famosi cento giorni. Nei primi famosissimi cento giorni. E quindi è necessario ovviamente fare una premessa a seguito di una verifica dei bilanci del Comune. Valuteremo tutto il da farsi. Questa è una prassi che ovviamente è necessaria. Ma il primo punto chiave del nostro programma è un'organizzazione specifica di professionisti, di esperti di bandi pubblici europei, regionali, ma anche enti privati. Non a caso lancio una esclusiva per la stampa. Il 4 maggio, come avevo già accennato, stiamo organizzando un evento sui bandi pubblici e europei. Quindi su tutte le informazioni necessarie per intercettare o semplicemente per conoscere quali sono le opportunità che l'Europa ci dà. Lo faremo alla Biblioteca Comunale il 4 maggio alle ore 18.30. Interverranno l'Europarlamentare D'Amato, e portavoce del Movimento 5 Stelle. Io personalmente relazionerò quello che Ostuni potrebbe fare attraverso i bandi europei. Ci sarà anche l'onorevole Valentina Palmisano e tutta la cittadinanza ovviamente invitata. Dicevo perché... Questo programma. Questo programma, dicevo perché è importante avere un team di esperti bandi europei. perché crediamo fortemente che da lì, dall'intercettazione dei fondi pubblici, possa nascere tutto il nostro programma e possiamo applicarlo e vederlo andare avanti. Parliamoci chiaramente se noi possiamo scrivere tutto quello che vogliamo sul nostro programma, ma se non ci sono i fondi, se non troviamo i fondi necessari. Ma in effetti tutti i programmi che i sindaci hanno riscerato in questo periodo parla di grandi e belle cose, per carità stupende da realizzare, però obiettivamente hai ragione, bisogna fare i conti con un bilancio che non sempre consente di attuare questa programmazione che abbiamo intenzione di fare. Ti blocco un secondo, sempre ritornando ai programmi. Sai, in quest'ultimo periodo se ne dicono di cotte e di crude. ti parlo per esempio della piazza, ti parlo per esempio del commercio, ti parlo per esempio di Deor, accennavi al castello di Villanova, ti parlo della questione del porto di Villanova. Cioè tutte queste cose, le strade che sono quelle che sono, le contrade che vivono una vita, non so che vita a questo punto, cioè tutte queste cose messe insieme. I Cinque Stelle, come la vedono e cosa propongo nello specifico? Io ho letto sul quotidiano un tuo parere sulla questione di Deor, per esempio. Per quanto riguarda i Deors, ci siamo... Scusami, ma purtroppo è l'argomento del giorno quello. No, 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 ci tengo a precisare che siamo intervenuti più di una volta, sia sull'articolo del quotidiano, dove abbiamo ipotizzato anche degli incentivi ai commercianti affinché si adeguano alla nuova normativa. Ma successivamente dopo la protesta ho inviato anche una PEC al commissario chiedendo in via del tutto eccezionale una deroga, una proroga più che altro dell'articolo 37 del nuovo regolamento che dice di sostituire definitivamente il vecchio. Ma purtroppo eravamo a cavallo e entravano le norme di salvaguardia e quindi i commercianti erano in balia delle onde. E quindi chiedevamo per un discorso di continuità, per evitare disagi, di quantomeno seguire il vecchio ordinamento in attesa del parere della soprintendenza. Pare che il parere sia arrivato e spero che questa situazione si risolva quanto prima. Però hai fatto benissimo a elencare una serie di problematiche e a nostro avviso, perché ripeto, io sono il portavoce dei cittadini, non mi ritengo neanche un candidato sindaco, voglio essere il portavoce dei cittadini e quindi anche il portavoce del mio gruppo, del gruppo di attivisti. E per noi tutte queste problematiche possono essere risolte ovviamente non con la bacchetta magica, però c'è un problema di fondo che è evidente a tutti, è un problema emblematico. È quello che Ostuni ha un piano regolatore datato 1972 con vari rattoppi vari, ma parliamo di un piano regolatore che ha una concezione, una dottrina urbanistica del 1960, quindi parliamo di oltre 50 anni fa. E da qui nascono tante problematiche, tra cui anche le problematiche interconnesse con la costa, con la possibilità di avere un'edilizia sostenibile. È impossibile puntare un'edilizia sostenibile se abbiamo un piano regolatore obsoleto, dove davvero è impossibile, addirittura dove si incentiva a costruire, quindi nuova espansione dell'edilizia, cosa ormai quasi vietata da ogni normativa regionale o quant'altro. Quindi, a nostro avviso, è importante finalmente avere un piano urbanistico moderno, eco-sostenibile. Che pensi soprattutto al recupero a questo punto. Esattamente, sul recupero, sull'ambiente, sulla tutela del territorio. E da qui che si può ripartire è avere un progetto davvero sostenibile. Hai parlato di ambiente, mi viene una domanda, scusami se ti ho interrotto, mobilità. Mobilità. Tocchi un tasto particolarmente sensibile, perché venendo da Londra, dove il trasporto pubblico urbano è, forse penso, tra i migliori al mondo. Costoso, ma tra i migliori al mondo. Ecco perché tra i migliori al mondo, perché è costoso. Sicuramente, però, nonostante sia davvero uno dei migliori, davvero continuano a espandersi, di avere necessità di ampliare il loro parco bus o quant'altro. Londra, ovviamente, è una metropoli, quindi parliamo di un caso completamente diverso da Ostuni. Però ho viaggiato anche in tanti paesi più piccoli, città più piccoli dell'Europa, dove la mobilità sostenibile è diventata realtà. E a Ostuni ancora abbiamo problematiche di natura visiva. Abbiamo difficoltà a trovare esattamente l'ubicazione della fermata, della bus o quant'altro. Quindi è bene anche riprogettare la città attraverso una politica differente da quello che si è sempre fatto. Sempre attraverso i fondi, ovviamente, perché se non riusciamo a ottenere i fondi, come ho detto prima, non potremmo fare assolutamente nulla. I comuni saibini hanno ormai una limitata disponibilità economica. Questo riprogettare la città come? Attraverso una politica di mobilità sostenibile, attraverso dei parcheggi intelligenti, senza necessariamente andare a soffrire di nuove aree di suolo pubblico. ma abbiamo individuato tante aree destinate a parcheggio inutilizzate a Ostuni, anche abbastanza centrali. Questa è un'assurdità. Laddove sono destinate aree a parcheggio si possono realizzare attraverso sempre i fondi parcheggi multilivello, sotterrani, dove non c'è nemmeno la necessità di avere particolari pareri paesaggistici. E sono realtà evidenti anche a pochi chilometri. A Bari abbiamo degli esempi di parcheggi sotterrani vicino all'Ateneo o al Policlinico. Quindi non parliamo di fantascienza, parliamo di progetti concreti. Servono solo l'impegno, le competenze per andare a intercettare i finanziamenti e realizzarli. Cosa che, ahimè, fino adesso non è stata mai fatta. Una strategia allungimirante a lungo termine. Altro punto qualificante del programma, visto che c'è davanti? Ne ho dieci davanti, ripeto, sarebbero tutte priorità. Vorrei parlarvi però dello sport e del turismo, che a mio avviso sono interconnessi. Dello sport perché... Come ex giocatore di basket. Ex giocatore di basket, ma ho dimenticato da dove vengo. Ho lasciato un centro olimpico acquatico a Londra in realtà ho sospeso il mio contratto. Grazie alla società ho trovato questo accordo per dedicarmi interamente a questo... E sei l'eletto sindaco? Ahimè, dovrò rinunciare definitivamente al mio contratto di lavoro che mi lega con l'Aquatic Center a Londra, ma lo farò sicuramente con molto piacere e entusiasmo. Quindi da sportivo, da istruttore, formatore di materie sportive, lo sport a nostro avviso e a mio avviso può portare anche il turismo attraverso un incentivo ovviamente allo sviluppo dei progetti delle società, delle associazioni sportive, attraverso la riqualifica delle strutture, degli impianti sportivi e, perché no, la realizzazione di nuovi impianti sportivi attraverso non solo i bandi pubblici, ma in questo caso possiamo soffrire anche del supporto dei privati. Ci sono tantissimi privati, si chiamano joint ventures anche in termini inglesi, sono investitori che individuano realtà piccole o medie o grandi che siano e attraverso un business plan, quindi un progetto di un'associazione sportiva, se sposano questo progetto sono intenzionati ad investire e a creare l'impianto, il famoso stadio della Juventus. Ma credo che anche Adostune abbia avuto un'operazione di questo genere, con la piscina comunale. Quello è un bel esempio, è un bello esempio di investimento a costo quasi zero per il comune. Il comune concede il suolo e il privato costruisce l'impianto, sotto convenzione ovviamente, però in questo caso si sarebbe dovuto incentivare l'utilizzo comunale. Penso che è carente in questo, ovvero andrò a verificare, però se parliamo di piscina comunale, io lavoravo appunto a Londra in un centro olimpico, ma gestito appunto dal comune e posso garantirti che le sovvenzioni, le convenzioni, gli incentivi, gli spazi dedicati ai disabili, per esempio, o alle persone anziane, o comunque tutte quelle necessità che i cittadini più bisognosi hanno, sono gratuite e questa è la politica anche della piscina comunale o del luogo appunto chiamato comunale. E forse dovremmo incentivare questa politica. Ad esempio a Londra anche le scuole usufruiscono della piscina comunale e sarebbe anche un bel esempio di... Questo succede anche a Ustuni comunque, per alcune scuole, se non vado errato. Benissimo, se non ero corrente ne verificherò e porteremo questo concetto sicuramente nel nostro programma. Credo fortemente che le scuole debbano fare un'ora di sport a settimana perché io ho studiato i fenomeni di annegamento infantile e sono dei dati davvero preoccupanti. Anche se viviamo in una regione dove il mare è diffuso, non tutti sanno notare. Quindi sarebbe opportuno incentivarlo. Domenico, siamo in chiusura di trasmissione. Una domanda è d'obbligo. Non so se hai notato che in questo periodo girano un sacco di sondaggi. Vedo un sondaggio che da... Non voglio fare nomi, non voglio fare percentuali, però vedo che sono delle percentuali che già stabiliscono il vincitore di questa tornata elettorale. Tu cosa c'è... Non so se sono a conoscenza anche da parte 2 questi sondaggi. Come li vedi? Non ti danno eletto sindaco comunque? Non parlo di numeri perché non... Non mi va di parlarne. Pescheramenzia sarebbe un bene. Poi si dice gli ultimi saranno i primi. Quindi... Ho letto, mi hanno più che altro inviato qualche informazione perché, come pensate, sono abbastanza impegnato in questi giorni. Però ho letto di questi sondaggi. ovviamente ognuno è libero di farli. Quello che magari è singolare è che ci sono dei dati che risaltano e sono un po' ambigui. Ad esempio... Ambigui? Ambigui, sì. Perché in riferimento a questo sondaggio ho letto che uno dei candidati sindaco... Non facciamo nome per oggi i motivi. Uno dei candidati sindaco risulta al 91% conosciuto da tutti gli intervistati. Alla domanda successiva chi voteresti come sindaco lo stesso sindaco che rappresenta il 20%. Quindi, siccome io ho studiato anche statistica e la matematica non è un'opinione, quindi tra il 90% e il 20% c'è un 70% che se conosce questa persona evidentemente non lo vota o non lo voterebbe. Quindi, diciamo che analizzare questi dati è un po' singolare. Però, ripeto... A te quanto ti danno a te in questi sondaggi? E se non sbaglio genericamente stiamo generalmente al netto degli indici che siamo letto al 47% è un dato catastrofico. Allarmante. Allarmante. Mi accontenterei solamente il 10% di questo 40%. Io sarei al 9% e qualcosa ripeto però lo prendo con filosofia con... Una domanda ultima e poi chiudiamo perché la regia mi fa segno che stiamo sforando il Movimento 5 Stelle diciamo è la novità è stata la novità anche a livello nazionale ultimamente sta accusando qualche colpo di freno? Se mi parli a livello nazionale ti parlo a livello nazionale perché a livello locale ancora non abbiamo nessun rappresentante quindi non possiamo esprimerci Allora come ben sappiamo c'è tanta differenza e purtroppo c'è tanta differenza tra le politiche le regionali e le amministrative sono penso delle elezioni a sé ogni elezione ha una strategia diversa ha una struttura diversa e questo l'hanno dimostrato anche le regionali le ultime regionali anche se devo ammettere che in alcune regioni dove non eravamo nemmeno presenti siamo comunque arrivati al 10% ma in Sicilia avete perso un comune però sbaglio o sbaglio sì sicuramente se dobbiamo fare un'analisi generale c'è un calo di consensi ma penso che sia fisiologico perché il Movimento 5 Stelle sta portando avanti delle battaglie delle battaglie e quindi significa andare contro qualcuno e contro anche poteri forti contro delle lobby anche l'opinione pubblica e soprattutto la stampa non è sempre clemente con il Movimento 5 Stelle però noi stiamo andando avanti e i dati ci danno ragione proprio in questi giorni proprio ieri e oggi si stanno pubblicando dei dati finalmente di una ripresa economica il PIL oggi segnava lo 0.2% la disoccupazione giovanile è diminuita ai minimi storici dal 2011 e quindi quando i dati ti danno ragione possono parlare possono dire tutto quello che voglio ma sono i dati che ci daranno ragione Domenico e un'altra domanda mi viene spontanea scusami ma un altro limite limite dei 5 Stelle è quello che non vogliono fare apparentamenti con nessuno ma intanto se si va al ballottaggio e che succede? ti preannuncio che proprio il 5 maggio anche perché sarebbe assurdo a livello nazionale abbiamo fatto l'accordo con Salvini a livello locale che forse tra virgolette è anche più importante forse sarebbe l'ora di ci tengo a precitare perché l'accordo su Salvini non è un accordo elettorale ma è un accordo sui temi e anche se anche lo sui potremmo fare un contratto di governo e questo non lo escludiamo noi non escludiamo l'eventuale accordo sui temi in caso di maggioranza perfetto ci si mette seduti a un tavolo se il programma corrisponde non facciamo differenze di colori politici ma se sui temi c'è un accordo noi siamo disponibili a collaborare con alcune forze politiche per non arrivare eventuali altre dedizioni benissimo quindi stai dicendo ufficialmente che comunque i 5 stelle potrebbero dico potrebbero uso il condizionale sostenere un'eventuale amministrazione sia essa di destra o di sinistra assolutamente se i temi e i temi sono in comune e c'è un contratto appunto di governo come l'hanno fatto Di Maio e Salvini con ovviamente la garanzia del nostro ministro Conte perché no assolutamente noi siamo per il bene del comune di Ostuni non vogliamo limitare o mettere un bastone tra le ruote sappiamo benissimo che non abbiamo il potere di queste liste civiche siamo 312 contro 24 però siamo disponibili al dialogo al confronto sui temi e soprattutto sui temi che portano benessere ad Ostuni perché se vogliamo cambiare le cose ad Ostuni dobbiamo fare cose differenti se facciamo sempre le stesse cose lo dico da sempre e lo ripeterò sempre non si possono aspettare risultati differenti se facciamo sempre le stesse cose Domenico io ti ringrazio di questa cacchierata che ci hai voluto fare questo pomeriggio e nel salutarti do nuovamente appuntamento agli amici radio ascoltatori a martedì prossimo con speciale coscienze politiche che ribadisco andrà in onda in diretta dalla biblioteca comunale perché in quell'occasione in quella trasmissione Radio Stuni si è fatta promotrice di presentare alla cittadinanza in maniera ufficiale i quattro candidati sindaci quindi vi do appuntamento a martedì prossimo però non alle 17.30 bensì alle 18 dalla biblioteca comunale grazie e buona serata grazie Domenico grazie a te